Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video andremo a vedere come avviare Windows in modalità provvisoria L'avvio in modalità provvisoria può essere utile per diversi motivi Ad esempio si può avviare in modalità provvisoria per rimuovere un virus che non riusciamo a rimuovere dalla modalità normale Quindi magari il virus è attivo, non ci permette di cancellare dei file Riavviamo in modalità provvisoria, in questo modo non parte all'avvio di Windows e riusciamo a rimuoverlo Ovviamente le situazioni e i casi in cui può essere utile sono diversi Comunque andiamo a vedere come avviare Windows in modalità provvisoria Ci sono due metodi per poter accedere alla modalità provvisoria Il primo è nel caso in cui non riusciamo proprio ad accedere a Windows, quindi non si avvia Windows In quel caso dovremo premere continuamente F8 all'avvio del PC Ci verrà mostrato un messaggio che ci chiede se avviare Windows normalmente o avviare in modalità provvisoria Ovviamente in quel caso selezioniamo con i tasti della tastiera modalità provvisoria e premiamo invio Quello che vedremo in questo video invece è come avviare la modalità provvisoria quando Windows comunque si avvia Quindi quando il computer funziona correttamente ma vogliamo accedere alla modalità provvisoria I metodi per avviare Windows in modalità provvisoria sono due In realtà accediamo sempre alla stessa schermata però possiamo farlo in due modi Il primo è andare nello spazio di ricerca dove c'è scritto scrivi qui per eseguire la ricerca Premiamo e scriviamo msconfig Tutto attaccato o configurazione di sistema e clicchiamo sulla corrispondenza migliore Quindi aspettiamo che carichi e vedremo questa schermata In alternativa quindi se non dovessimo avere Windows 10 quindi non abbiamo questo elemento Oppure non dovessimo trovarlo nell'elenco Possiamo utilizzare la combinazione di tasti Windows R Per aprire esegui oppure nelle precedenti versioni di Windows cliccando su start troviamo esegui E da esegui andiamo a scrivere msconfig e premiamo invio Quindi otteniamo lo stesso risultato Da qui andiamo sulla scheda opzioni di avvio E da opzioni di avvio attiviamo modalità provvisoria Qui abbiamo quattro scelte Quelle che ci interessano principalmente sono minima e rete Le altre due ignoriamole che sono un po' più complesse Quindi quelle utili per poter andare ad utilizzare Windows senza processi extra Quindi disattivando virus, disattivando driver non funzionanti Disattivando qualsiasi processo che non sia proprio di Microsoft Sono minima e rete Le differenze sono principalmente che la modalità provvisoria minima Parte proprio con le funzionalità di base di Windows Quindi nessun extra Niente che non sia strettamente necessario per far avviare Windows Con la modalità provvisoria rete abbiamo anche la possibilità di collegarci ad internet Quindi possiamo collegarci al web Quindi magari scaricare eventuali software Scaricare gli aggiornamenti Quindi ad esempio scaricare gli aggiornamenti delle definizioni dell'antivirus Ovviamente se avete già l'antivirus installato Se state quindi avviando in modalità provvisoria per rimuovere un virus Se lo avete già installato e lo avete già aggiornato Vi consiglio di avviare la modalità provvisoria come minima Quindi senza il supporto di rete Se invece avete necessità, quindi l'obbligo di dover scaricare dal web Un software che magari non funziona in modalità normale Non riuscite a scaricarlo ed installarlo Ovviamente siete costretti ad utilizzare la modalità provvisoria con rete Una volta scelto quindi minima o rete Facciamo clic su applica E clicchiamo su ok Windows ci chiederà di riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche Quindi cliccando su riavvia Il computer si riavvierà in modalità provvisoria Una cosa importante della modalità provvisoria È che come detto molti driver non verranno caricati Quindi alcune periferiche potrebbero non funzionare Ovviamente quelle esterne Quindi magari mouse e tastiera sì Però potreste avere problemi a caricare alcune periferiche particolari I driver della scheda video non saranno caricati Quindi saranno caricati quelli base del computer Quindi non avrete la stessa risoluzione che avete con la modalità normale Ma avrete una risoluzione maggiore Cioè nel senso una risoluzione minore Con le icone e con tutti gli elementi più grandi Quindi vedrete tutto molto più grande Perché avrete una risoluzione più bassa dello schermo Una volta fatte tutte le modifiche in modalità provvisoria Quindi ad esempio effettuata la scansione per rimuovere il virus Disinstallato un programma che non riusciamo a rimuovere Andiamo a disattivare la modalità provvisoria Quindi anche in questo caso msconfig Configurazione di sistema Da qui ritorniamo su opzioni di avvio Disattiviamo modalità provvisoria Clicchiamo su applica E clicchiamo su ok Anche in questo caso ci verrà chiesto di riavviare Una volta riavviato Riaveremo Windows così come era prima Con le modifiche che abbiamo fatto in modalità provvisoria Quindi se abbiamo rimosso il virus sarà stato rimosso ovviamente Anche dalla modalità normale Se abbiamo disinstallato un programma non sarà più presente Se abbiamo disinstallato o aggiornato un driver Sarà aggiornato anche nella versione normale Quindi le modifiche fatte in modalità provvisoria Saranno tutte presenti anche nella modalità normale Quindi riassumendo Per avviare in modalità provvisoria da Windows Msconfig Opzioni di avvio Modalità provvisoria Se non riuscite ad avviare Windows Prima Quando accendete il computer Prima che compaia il logo di Windows Premete continuamente F8 Fino a quando non vi comparirà un elenco di scelte Modalità provvisoria Modalità normale Modalità provvisoria con rete Quindi da lì potrete effettuare le scelte Questo è tutto per questo video Come sempre scrivetemi nei commenti Eventuali dubbi, domande o suggerimenti Vi ringrazio per averlo seguito E ci vediamo al prossimo Modalità provvisoria 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 Modalità provvisoria